Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare le sfide di fare danni con gli artigli di Wolverine e di recuperare energia. Una volta che avete sbloccato Wolverine, non dovete di nuovo sperare di eliminarlo per prendere il suo potere e fare queste due sfide. Vi basterà ovviamente selezionare la skin di Wolverine e avviare Knockout Marvel, con l'aspiranza che tra le abilità ci sono gli artigli, perché non sempre è così. Se ci sono gli artigli vi basterà picchiare a destra e manca chiunque per fare danno. Per quanto riguarda il recupero dell'energia, una volta che avete perso una certa quantità di energia, se indossate gli artigli, quindi equipaggiatevi degli artigli, recupererete automaticamente energia. Quindi non dovrete fare di nuovo la caccia Wolverine. Se avete sbloccato Wolverine dovete fare la modalità Knockout della Marvel. Molto semplice e molto veloce come sfida. Diciamo la vera difficoltà sta nell'ottenere Wolverine. Vedete, in questo caso non c'è, quindi io esco dalla partita e rientro. Dovete trovare una partita in cui ci sono gli artigli di Wolverine, altrimenti la sfida non la fate. Un po' come la sfida di Black Panther. Se non c'è l'abilità di Black Panther, la sfida non la fate. Almeno nella modalità Knockout, che è molto semplice. Se poi volete complicarvi la vita, allora andate nella modalità Battle Royale tradizionale e eliminate Wolverine, vi prendete gli artigli e fate le sfide. Però se volete semplificarvi la vita e velocizzare le sfide, dovete farlo in Knockout della Marvel. Quindi entrate, se ci sono gli artigli, picchiate e nascondetevi per recuperare energia. Se non ci sono, uscite dalla partita e rientrate. Le sfide sono davvero semplici. Dovete avere ovviamente un pizzico di fortuna, perché può capitare che nella partita gli artigli non ci sono. Come è successo a me prima. Quindi vediamo se adesso ci sono, se non ci sono. Ripeto la procedura fino a quando non ci sono e vi mostro come fare. Ecco, qui non ci sono, quindi ci rivediamo tra poco. Rieccomi ragazzi, vedete? Ci sono gli artigli, quindi siamo fortunati. Per così dire, ho provato diverse volte. Però se nella partita ci sono gli artigli, potete fare entrambe le sfide. Quindi utilizzate gli artigli sia per ripristinare l'energia che per fare danno. Appena inizia la partita vi mostro come fare. Molto semplice ragazzi, anzi. Se nella partita, come è successo a me, c'è anche l'abilità di Black Panther, potete fare sia la sfida di Black Panther che quella di Wolverine. Quindi potete cogliere due piccioni con una fava, come si suol dire. Aspettiamo che inizia la partita. Quindi ripeto, se volete semplificarvi la vita, fate questa modalità una volta che avete ottenuto Wolverine. E ripetete la procedura fino a quando non escono gli artigli. Vedete? Adesso io ho gli artigli, quindi non dovete fare altro che avvicinarvi ai giocatori e fare danno. Cioè, molto semplice ragazzi, nulla di complesso. Vedete? Premete, nel mio caso, R2, fate danno e così fate la sfida. In questo modo, vedete, se vi allontanate, recupero energia perché indosso gli artigli. Quindi, in questo modo, potete completare le due sfide di Wolverine. Grazie.